E tanto per non farci mancare nulla, anche oggi ci ritroviamo qui, oggi è mercoledì 16 di giugno 2015, stiamo per imboccare la famosa deviazione di Laino Borgo per percorrere la deviazione che ormai da quattro mesi o cinque, abbiamo perso il conto, divide la Calabria dal resto dell'Italia, la famosa deviazione del viadotto Italia, siamo nel presse con svingolo di Laino Borgo e anche oggi documenteremo questa meraviglia di deviazione, anche oggi ne vedremo sicuramente cotte di crude, se il buongiorno si vede dal mattino siamo già messi male oggi, vediamo un po', cosa ci riserva oggi la strada? c'è il solito comitato di benvenuto girate a sinistra ci lasciamo passare ok eccoci qua tra 300 metri spostatevi sulla destra spostatevi sulla destra Grazie a tutti.